ciao a tutti oggi prepareremo i teneroni di prosciutto il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa gli ingredienti sono prosciutto cotto uova mozzarella pan grattato aromatizzato e parmigiano diamo il via la ricetta mettiamo all'interno del boccale il prosciutto la mozzarella il parmigiano l'uovo e il pan grattato aromatizzato chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6 il composto è pronto adesso con l'aiuto di un coppapasta formeremo i teneroni posizioniamo il coppapasta sulla teglia rivestita con carta da forno iniziamo a formare il tenerone schiacciamo sul fondo possiamo compattarlo meglio rimuoviamo il coppapasta e proseguiamo con il resto del composto dopo aver formato i teneroni con i rebbi di una forchetta o con uno spietino piatto formeremo le strisce nella parte superiore dei teneroni proseguiamo così con tutti gli altri teneroni grazie cuciniamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 7-10 minuti i teneroni sono cotti andiamo a impiattare teneroni grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie